Ciao a tutti, ecco a voi il consueto appuntamento con la Nellar Collection, siamo arrivati all'uscita 22 che troverete in idicola il 26 maggio. All'interno troverete il top coat della Nellar Collection e uno sticker water decal con le fantasie che avete appena visto. Come sempre troverete i due tutorial, uno fotografico e l'altro fotografico e video e il video verrà caricato anche nei social annessi di Youtube e Facebook. In questo caso ho fatto la prima tutorial un po' più semplice dove ho realizzato dei cuori in un sistema diverso dal solito, è molto facile. Il secondo tutorial è un po' più particolare dove ho utilizzato comunque diverse cose come gli acrilici, le microperle, il rose, il perlato, insomma ho utilizzato diversi strumenti anche delle uscite passate. Come al solito spero tanto che comunque questa dimostrazione vi faccia piacere, vi incuriosisca l'uscita, fatemi sapere cosa pensate appunto di questa uscita e al prossimo video. Un grosso bacio a tutti, ciao!